buongiorno da meteo red ecco gli ultimi aggiornamenti col fiume può normalmente in crisi in siccità con la ripresa e l'intensificazione nell'ultima settimana di ottobre di una decisa ottobrata anticiclone africano in piena veste estiva il risultato sarà caldo fuori stagione al sud addirittura potranno superarsi anche i 30 gradi in qualche località soprattutto di sicilia e sardegna caldo anche al nord 24 25 gradi con inversione termica e inquinamento zero termico 4000 metri sulle alpi e neve che anche ad alta quota non arriva questa è una situazione che non presenta cambiamenti significativi anche a novembre potrebbero calare un po le temperature se non altro per ragione astronomica della stagione ma la tendenza del mese sembra improntata ad anomalie calde nuovamente questo è positivo per i consumi energetici meno positivo per gli equilibri della natura